Un momento emozionante, quello di oggi, è venuto il Presidente della Regione Marco Marsilio, ha incontrato tutti gli operatori del 1-1-2, un momento anche, un'occasione per mostrare la sala operativa nella sua interezza, nella sua funzionalità. Sì, assolutamente, è stato il primo approccio del Presidente a questa sala, che è stata diciamo così completata proprio in questi giorni, stiamo ancora diciamo così facendo alcuni aggiustamenti, soprattutto dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i sistemi gestionali. È stato un momento emozionante perché poi di fatto questi ragazzi che saranno gli operatori del 1-1-2 da qui a pochissimo tempo e che in questo momento stanno facendo la formazione, hanno sentito diciamo così l'importanza di questo servizio dalle parole del Presidente della Regione Abruzzo, quindi sicuramente molto importante per loro. Una piccola rivoluzione il passaggio all'1-1-2 che però non interrompe l'uso, la fruibilità dei numeri tradizionali del soccorso. Assolutamente sì, ai cittadini non cambierà nulla, continueranno a fare i numeri che per loro sono più familiari, quindi il 112, il 113, il 115, il 118, però risponderemo noi che nella compilazione della scheda dell'utente e poi nell'individuazione del chiamante accorceremo i tempi e favoriremo le strutture di secondo livello. Quindi è un servizio che oltre a essere obbligatorio a livello europeo è sicuramente molto funzionale alle attività di soccorso. Le date che ci aspettano di qui all'inaugurazione della sala? Tutto inizierà il 12 di marzo con lo switch che interesserà quattro distretti telefonici che saranno il distretto di Pescara e i tre distretti del Chietino. Quindi gradualmente nell'arco della giornata ci saranno questi passaggi dalle centrali di secondo livello verso la centrale unica di risposta per concludersi questa prima parte nella serata stessa del 12. Poi 14 giorni dopo, quindi il 26 di marzo, provvederemo allo switch delle tre centrali dell'Aquila e della centrale di Teramo con la stessa procedura. Per cui diciamo che dalla sera del 26 di marzo lo switch dell'Abruzzo sulla centrale unica di risposta europea 112 sarà totale.